ben trovati a una nuova puntata di le fonti parola al direttore direttamente dalla redazione di libero con vittorio feltri il direttore editoriale ciao vittorio ciao e un saluto a tutti mi due le dirlo ma ci rivediamo ancora in piena pandemia da coronavirus sì anche se secondo me siamo in fase calante l'aggressività del covid pare che sia notevolmente diminuita tant'è che gli asintomatici sono ormai diciamo un numero esorbitante quindi mi sembra che si sia un po' ecceduto con le misure prese dal governo questo governo macchiaiolo che ormai parla di giallo di rossa non si capisce più niente comunque ormai siamo abituati anche alle cose sconsiderate che fa il nostro esecutivo lo dico perché nelle puntate precedenti di parola al direttore ci siamo sempre salutati sperando incrociando le dita dicendo dai la prossima volta ci vedremo e sarà tutto passato questo non è accaduto però appunto al di là della pandemia la notizia è che l'italia è colorata ormai è divisa in zone e la lombardia così arriviamo e partiamo da una di quelle situazioni che è considerata più grave è zona rossa e tu hai detto poco fa misure eccessive eccessive sconsiderate ne cito una per tutte che ormai fra l'altro è in decadenza ma il fatto che i ristoranti potessero tenere aperto soltanto fino alle 18 di sera era un provvedimento totalmente idiota volendo usare un linguaggio edulcorato perché perché il virus non è che di giorno dorme e poi si sveglia la sera alle 18 e va in giro a infettare la gente è una stupidaggine invece si poteva pranzare ma non cenare cioè il pranzo si era lecito la cena non si poteva fare perché i ristoranti chiudevano spiegatemi il senso di questo provvedimento una cosa totalmente folle ma non solo molte altre molte altri provvedimenti sono stati presi a cabocchia quindi ma questo lo sa la gente meglio di me quindi è inutile che io stia a ripetere cose che ormai sono entrate bene nella testa di tutti è come se fossimo un po tornati indietro diciamoci la verità magari non in tutte le zone d'italia però chiaramente si parla ancora di lockdown ti faccio subito una domanda più politica vittorio conte ha sempre parlato il presidente del consiglio di una strategia soprattutto nei mesi estivi quando ovviamente la situazione si era un po calmata ha detto saremo in grado di affrontare una seconda ondata a sue parole non mi sto inventando nulla insomma credi che questa strategia sia stata messa in atto nella seconda ondata assolutamente no altrimenti non saremo ancora qui con la chiusura totale con gli arresti domiciliari con una serie di provvedimenti che limitano la libertà non solo ma limitano anche le possibilità di lavoro danno un freno all'economia che era in forte ripresa in forte ascesa e quindi credo che il governo sia stato colto ancora una volta di sorpresa quando sorprese non ce n'erano perché molti avevano già annunciato che ci sarebbe stata una seconda ondata bisognava naturalmente cercare di organizzare meglio gli ospedali eccetera però per esempio la Calabria che non è assolutamente in una situazione grave è stata chiusa come la Lombardia mi sembra una follia mentre la campagna che è che praticamente è il caos è il caos la campagna invece ha un altro colore allora la mia sensazione è che siano state punite le regioni nelle mani del centro-destra e invece quelle di centro-sinistra come il Lazio e la Campania che sono un bordello sono state diciamo risparmiate da questo flagello. Peraltro dalla stessa campagna arriva ad esempio l'ultimo grido d'allarme chiamiamolo così del sindaco di Napoli De Magistris che ha detto delle due l'una o il governo non ha guardato bene la situazione oppure la campagna stessa dà e fornisce dati diversi da quelli che sono in realtà perché ancora una volta è stato messo l'accento sulla gravità della situazione. C'entrano qualcosa le proteste che ci sono state a Napoli cioè quindi il timore che ci possa essere nuovamente una rivolta sociale e quindi questo ha portato il governo? Io devo dare ragione ai napoletani perché non è che protestassero così per una questione di temperamento focoso purtroppo Napoli non ha un tessuto economico come quello del nord e quindi molto lavoro è nero se tu togli il lavoro nero ai napoletani li metti alla cara del gas, li riduci alla fame quindi giustamente erano preoccupati e protestavano, non avevano un'altra possibilità e quindi non escludo che quel tipo di protesta abbia influenzato anche le decisioni del governo però non hanno torto i napoletani, questo lo voglio sottolineare perché sai quando in una zona sottosviluppata tu togli il lavoro nero vuol dire togliere la possibilità di sopravvivenza perché a volte il lavoro nero che non è legale però è una risorsa perché non avessi neanche quello moriresti di media. Sì, se non ci sono altre possibilità e quindi insomma infatti le polemiche sono rate per esempio anche dal governatore del Piemonte dice ma il governo spieghi che criterio ha messo in atto per scegliere queste misure lo stesso Fontana dalla Lombardia addirittura ha parlato di dati vecchi sui quali si sono basati i responsabili dell'esempio. Probabilmente è anche vero, io non sono in grado di verificarlo. Certo. Però... E quindi, ma cambierà qualcosa secondo te direttore nel senso che fino al 3 dicembre andiamo avanti così? Io temo che fino alla fine di questo mese saremmo in questa situazione balorda, lo temo, poi spero che ci sia un controordine al compagno ma al momento non è previsto. Oggi io senza farlo apposta sono vestita di rosso, vabbè, leggo stato confusionale su Libero, proprio è la parola più giusta cioè sono confusi, davvero non si sa da che parte girarsi. Sì, hanno perso la testa, come tutti quelli che non ce l'hanno, purtroppo è così. Ci sono state delle polemiche anche, partiamo dalle polemiche e poi andiamo più sulla costruzione diciamo del futuro almeno per quanto possiamo fare noi qui seduti nella nostra trasmissione. Su quello che ha detto il governatore Ligure, parliamo di tutti i governatori, Giovanni Toti che in qualche modo ha differenziato la sua platea di cittadini, mettiamola così, a seconda dell'età anagrafica. Lui si è scusato, sappiamo tutti cosa ha scritto attraverso Twitter, sostanzialmente ha detto i più anziani, i pensionati non contribuiscono al PIL del paese o comunque al sistema produttivo del paese, si è scusato dicendo il mio staff ha sbagliato a scrivere, è stato un po' uno scivolone quello. Poi la scusa è puerile, è stato il mio staff, ma se tu affidi i tweet a qualcun altro devi controllare che siano in sintonia con il tuo pensiero, se non sono tali li cancelli. Invece questo è andato in rete e quindi ha scandalizzato, ma credo che sia stata un'uscita totalmente infelice perché rivela un sottofondo di razzismo molto pesante, perché intanto non è vero che i pensionati siano un peso per la società, non è vero perché la pensione, l'assegno pensionistico è la restituzione dei quadrini che per una vita il lavoratore ha versato all'Inps, l'Inps doveva fare fruttare quei soldi in modo di poterli restituire sotto forma di pensione, quindi dov'è? Anzi addirittura il lavoratore ha anticipato quei soldi e li riscuota in ritardo. E dov'è il problema? Poi non solo, ma gli anziani sono quelli che hanno fatto questo paese, lo hanno reso praticamente il settimo paese industriale del mondo, quindi non mi sembra che adesso vadano ripagati mettendoli in un cantuccio. Io sono convinto che si debba rispetto per gli anziani, poi da quando sono diventato anziano io i giovani mi stanno sulle balle. Ah, questo è un bel elemento da tenere in considerazione. Che età quindi? Quando comincio a sopportare le persone? Beh, quando hanno compiuto i 60 anni cominciamo a ragionare. Dobbiamo stare d'accordo, va bene, d'accordo. Allora abbandoniamo per un istante le riflessioni sull'età. Ti chiedo ancora una cosa sul Covid, perdonami Vittorio, ma per questo motivo. Abbiamo parlato prima delle proteste di Napoli, tu hai due domande in una, facciamo così. Come si sono comportati secondo te gli italiani durante i mesi precedenti dell'emergenza Covid, anche quando era un po' evaporata, per arrivare ad oggi? Cioè temi delle proteste accese, cioè temi che possa esplodere la rabbia sociale? Perché nella prima ondata avevamo tutti un po' paura, quindi abbiamo comunque rispettato in modo anche silenzioso. Ecco, abbiamo cantato dai balconi, però per il resto abbiamo rispettato in modo silenzioso tutto. Capirai. Tu cantavi dai balconi. Mi sembravano dei deficienti quelli che cantano dai balconi. Tu non cantavi dai balconi. Io temo, tra virgolette, che possa esplodere la rabbia sociale. Tu hai paura di questo o credi che non accadrà? Dunque, qui al nord secondo me è difficile che ci sia un'esplosione di ira, anche se non la posso escludere. Perché molta gente ha ancora delle risorse, anche i commercianti che sono costretti a chiudere, eccetera. Non mi vengono a dire che in banca non hanno una lira, perché altrimenti hanno lavorato fino a ieri per niente. Allora, quando tu hai delle possibilità economiche, è chiaro che il tuo temperamento è placato, perché comunque puoi sopravvivere. Però la gente adesso è infastidita. Questo si è infastidita, non capisce i provvedimenti, li contesta, avverte che sono inutili. E quindi non escludo, diciamo, che la temperatura del paese possa crescere. Questo non lo escludo. Non mi sembra imminente. Senti, cambiamo per un istante argomento. Parliamo di Twitter, perché ho letto a un certo punto che volevi essere cancellato da Twitter. Cos'è successo? Non so come cancellarmi da solo. Ma quindi vuoi ancora cancellarti? Insomma, facevo dei Twitter, non uscivano. Ah, venivano come bannati, insomma, in gergo. Sì, ma senza un avviso. E tu, insomma, ti sei rivolto in modo abbastanza... Mi sembra gestito veramente male, quel social lì. Ah, quindi ti vorresti cancellare? A me interessava sempre fare dei Twitter, non perché abbia la mania di farmi notare. Non è quello il punto. È che io, la mattina, prima di immaginare i titoli e gli argomenti da mettere sul giornale, e facendo quelle prove capivo, in base ai consensi o ai dissensi, capivo se il tema era, diciamo così, potabile per noi. E questo, in questo senso, era utile, però mi sono infastidito da questo sistema censorio che sta dilagando, come l'ordine dei giornalisti, che è ormai diventato una censura. Io l'ho abbandonato, certo. Sono uscito dalla gabbia. Ho visto, non avevo previsto questa domanda, ma ho buttato l'occhio su uno dei titoli che compare su Libero. Diritto agli immigrati, divieta all'italiana, a proposito di divieti, di censura, eccetera. E a proposito di rabbia, visto che ti ho chiesto, insomma, se a tuo parere potrebbe esplodere. Ecco, questo potrebbe essere qualcosa che potrebbe far scattare la molla. Questo diciamo che è un carico aggiuntivo, perché tutti sono infastiditi nel vedere questi immigrati che come mettono piede in Italia, uno va di qua, uno va di là, nessuno li controlla più, vivono come capita e poi naturalmente hanno il diritto di qui, il diritto di là, tutti i diritti, mentre per i cittadini italiani esistono solo divieti a questo punto. Anche questa contraddizione potrebbe infastidire, seccare gli italiani e immagino che anche il ministro dell'interno dovrebbe porsi il problema, invece mi sembra piuttosto assente. Assente. A proposito sempre di economia, ma insomma del futuro del nostro paese, è stato approvato il decreto ristori, ora con queste nuove chiusure il governo promette aiuti immediati? Sì, ma non ha soldi, promette, promette, ma non ha soldi, quindi è chiaro che non... Volevo arrivare lì la tempistica, perché poi si possono anche mettere nero su bianco norme provvedimenti che prevedano, no? Sì, sì, c'è. Dei ristori, la parola a me fa un po' sorridere. Anche ristoro. Mi sembra un po' una merendina. È ristorante, ristoro. Però se arrivassero, possiamo chiamarli come vogliamo, l'importante è che... Non arrivano. Non arrivano. Non ci sono i soldi. Anche perché la platea si è molto allargata adesso. Noi abbiamo un deficit mostruoso, un debito pubblico è già alle stelle, come facciamo a pagare i ristori, le biciclette, i monopati, anche per dare soldi a chi si è impoverito nel reddito. È un po' difficile che questo possa avvenire. Ma no, per cattiveria, non ci sono i soldi, se io non ho in tasca neanche un euro non posso dare. Magari la volontà c'è, io vorrei aiutare più persone, ma se non ne ho, come faccio aiutarle? Anche perché si parla di cassa integrazione per i dipendenti, ma anche di aiuti alle imprese. Non arriva neanche la cassa integrazione. Infatti. E in più aiuti alle imprese, altrimenti se non ci sono le imprese non ci sono più neanche i dipendenti. Segnalo tuttavia che le imprese italiane, mi riferisco all'industria, manufatturiera e non solo, è in fortissima crescita. Noi in settembre abbiamo avuto un aumento del 16% del PIL, non so se mi spiego. Quindi vuol dire che la struttura degli imprenditori è ancora molto solida e molto pronta. Non solo, ma anche in ottobre c'è stata la conferma di questo aumento del PIL. La nostra economia è la seconda d'Europa dopo quella della Germania, che è sempre stata più avanti di noi dal punto di vista del fatturato globale. E quindi noi non dobbiamo continuare a piangerci addosso. Se non avessimo questo governo che ci impedisce anche di andare a bere il caffè, noi secondo me avremmo un'economia forte. Purtroppo i nostri governi da molti anni a questa parte risentono di una mentalità comunistoide, per cui non riescono a capire che va incentivato il lavoro degli imprenditori invece di piegare sull'assistenzialismo. Mi riferisco all'ultima fesseria, è il reito di cittadinanza. Sono soldi che anziché incentivare il lavoro, lo mortificano e la gente sta a casa, come si dice adesso, sul divano invece di andare a cercarsi un posto di lavoro. No, si parla sempre di abbassare il costo del lavoro per le imprese, ma insomma quello non si fa, chiaramente poi le imprese potrebbero essere... I salari nostri sono tra i più bassi d'Europa. Sì, ormai è una condizione... Spagna prende stipendi più bassi del nostro. Ma perché sono così bassi gli stipendi? Perché ci sono troppe tasse che vengono inflitte sul reddito da lavoro, quindi sia il proprietario dell'impresa sia il dipendente vedono decurtato la cifra che poi mettono in tasca al netto. Sì, ancora due aspetti un po' più politici. In tutto questo mi stava venendo in mente che, vabbè, causa Covid, causa di forza maggiore, non si è più parlato dell'Europa, dei rapporti con l'Europa e di tutti i progetti che anche il nostro governo, il nostro paese, deve presentare per avere i fondi del Recovery Fund. Fino, mi viene da dire, un mese fa, prima che riesplodesse tutto, sembrava questione di vita o di morte, adesso non se ne parla più. Mi auguro che stiano andando avanti perché quelli, è vero, tra un po', non subito, ma potrebbero essere importanti per andare a sanare alcuni di questi gap. Sì, no, no, è tutto giusto quello che dici, però anche i soldi che dovessero arrivare dall'Europa vanno ad incrementare il nostro debito e io non festeggio mai quando faccio un debito, festeggio quando incasso, ma se poi incasso e devo restituire magari con degli interessi anche abbastanza pesanti, allora sono meno allegro. Però ci sembrava fosse la soluzione a tutti i problemi. Sì, la soluzione a tutti i problemi si è festeggiato perché l'Europa ci dà dei soldi, ma i soldi non sono arrivati e arriveranno nel 2021 se arriveranno. A parte di progetti approvati anche dalla Commissione, certo. Ma sì, ma questo è un governo incapace di fare qualsiasi progetto, qualsiasi programma, qualsiasi piano, quindi la vedo veramente neva da questo punto di vista. E a proposito di governo, in questo momento leadership politiche quali abbiamo al di là tra maggioranza opposizione, consideriamo un po' tutti, perché anche qui gli altri temi politici sembrano essere spariti dall'agenda di governo. C'è una decadenza nella politica che è spaventosa, quindi se però dobbiamo riflettere bene, non possiamo non considerare che gli stessi italiani hanno dato una manifestazione, una prova di imbecillità, perché l'ultima volta che siamo andati a votare il 33% ha votato per il Movimento 5 Stelle, che non mi è sembrata una scelta così intelligente, fatta dagli italiani però, e adesso ne godiamo le conseguenze. Quindi la politica non si sta più riorganizzando, prevagono quelle menti che pensano alla decrescita felice, che è un'espressione che dimostra la stupidità di chi la pronuncia, quindi non c'è niente da fare. Ecco, un'altra cosa, tutti questi sacrifici, Conte ha detto che dobbiamo farli per festeggiare il Natale. A me del Natale, personalmente, a me non importa niente. Festeggeremo quest'anno Natale? Io non l'ho mai festeggiato, non mi poco neanche il problema, francamente. Tu faresti il lockdown forse a Natale? A Natale, basta che non arrivino i parenti a rompermi le scatole in casa, perché dopo fa tutto bene. Allora, a proposito, senti, visto che siamo volenti o non volenti in lockdown, almeno per un po', eccetera, ho pensato a una cosa, Vittorio, una cosa che possiamo fare io e te, visto che c'è sempre questo ostacolo, no? Eh, mamma mia, è veramente un valico. Ecco, però c'è una cosa che possiamo fare io e te, sai? Ah sì? Sì. Dimmi. Te lo dico? Guarda, ti ho portato una cosa oggi. Della farina. La farina, e che me ne faccio della farina? Eh, perché cos'è meno, possiamo preparare dolci, sai che durante la fase del lockdown tutti stavano in casa a cucinare, postavano foto sui social. Ecco, io non so cucinare, ma comunque va tutto bene. Possiamo fare, cosa preferisci, dolci, torte, biscotti? Preferisco te. Va bene, non so, vediamo, perché anch'io non so, vediamo, va bene. Non approfondiamo. Non approfondiamo, va bene, però questo dai, proviamo. Sì, questo va bene, interessante, bene, bene. E poi mettiamo le nostre ricette, si sa mai che creiamo un business, no? Non temo che sarà un fallimento. Le ricette di Emanuele Vittorio, non ti suona bene? No, suona bene, l'etichetta, poi bisogna vedere il contenuto. Va bene, Vittorio, Feltri, grazie, direttore, ci vediamo la prossima volta, ovviamente. Ma naturalmente alle fonti. Sempre le fonti TV, assolutamente sì. Le fonti TV, queste sono ormai casa mia. Grazie Vittorio Feltri. Grazie. Grazie.